Ehi la, buongiorno, buona sera, buona notte e benvenuti al nostro canale Io sono Allie, io sono Allie, io sono Allie, io sono Allie su Alliauri Channel, versione natalizia Eccoci qui con il primo vlogmas, infatti i nostri vlogmas inizieranno da oggi, termineranno venerdì 23 Cioè con un video al giorno countdown natale, mancano 6 giorni a natale, non vediamo davvero l'ora Non vediamo l'ora di strafogarci di cibo e di vivere l'atmosfera natalizia a Piero E qual è il primo step se non decorare un po' con l'albero di Natale? Infatti l'8 di dicembre, come penso me in Italia, abbiamo fatto l'albero di Natale E nel frattempo abbiamo risposto ad alcune domande che ci avete fatto nei box su IG Dove ci chiamiamo Allieuri.channel, come su TikTok e quindi abbiamo deciso di portarvelo come primo vlogmas Fateci sapere qui sotto nei commenti qual è il vostro color code per l'albero Capirete perché è molto importante soprattutto per me Noi vi aspettiamo domani i prossimi giorni con i prossimi vlogmas e adesso vi è di lasciarvi subito con il vlogmas Eccoci qui pronte per fare l'albero di Natale Con in sottofondo un bel camieto anche in realtà abbiamo quello che lo dì ma non abbiamo voglia di accenderlo Oggi è l'8 di dicembre e questo qui è il nostro vlogmas e siamo pronte per addobbare la sala Mentre risponderemo ad alcune delle domande che ci avete fatto in un box di Instagram Cioè abbiamo anche scritta penna Che brava Prima direi almeno di tirare fuori l'albero dallo scatolone Diciamo che fare l'albero non è una cosa che ci piace particolarmente Però ci lo facciamo piacere Perché è meglio avere comunque qualcosa di decorazione perché sennò sono veramente un periodo dell'anno uguale a tutti Allora la prima domanda a cui vogliamo rispondere è Ma voi l'albero lo fate tutti gli anni uguale? Questo rispondo io Allora io ho un problema Quando questo l'albero diciamo più recente perché l'abbiamo cambiato quando abbiamo cambiato i colori della sala Perché prima la sala era sui toni caldi invece adesso è totalmente sui toni freddi Quindi bianco, tortora E prima quindi l'albero era un po' un ciappacasini Con pallina a caso, oro, rosse, oro, blu Che a me aveva sempre il neurone in tit perché non mi piaceva io volevo avessi un senso Quindi quando abbiamo rifatto la sala ho detto Sì ma l'albero prima parte deve avere un minimo di senso Perché avere la casa bianca e l'albero rosso e oro mi partiva un neurone Per riassumere adesso l'albero si fa solamente bianco e argento Che tra l'altro è anche in paletto interno Strano Un'altra domanda che ci avete fatto è se abbiamo tanti compiti per le vacanze di Natale Allora io sinceramente non lo so però per questo ponte dell'otto ho due versioni Sì ho un sacco di roba da fare e non so quando la faremo perché saremo appunto un po' sempre Impegnate Però vabbè spero per Natale che mi diano poche versioni di latino e di greco perché Sennò veramente c'è si passano le vacanze a fare i compiti ed è una cosa assurda Anche perché a scuola mia il trimestre finisce con l'inizio delle vacanze di Natale Quindi tecnicamente dovremo avere una pausa didattica a gennaio di due settimane Che poi nessuno in realtà veramente rispetta però vabbè Al contrario io non ho i compiti ma andando all'università devo gestirmi lo studio Io sarò quando diciamo le superiori finiscono io inizio perché appena finiscono le vacanze di Natale Inizio la sessione invernale quindi devo studiare un bel po' di cosine Recuperare magari le lezioni perché poi alcuni giorni sono via in un viaggio quindi Anche perché funziona un po' così all'università nei momenti in cui hai la sessione praticamente al liceo Quindi non riuscivo mai a conciliarci perché quando io sono in relax più tranquilla la licea è sempre stracolma di robe Allora la prossima domanda a cui risponderemo è è meglio il liceo classico o il liceo scientifico? O è più difficile? Allora noi non possiamo dirvelo con certezza perché non abbiamo fatto il liceo scientifico Però comunque abbiamo avuto un assaggio perché io ho fatto e anche l'Ali sta facendo il liceo classico potenzialmente alla scientifica E la nostra mia amica fa invece lo scientifico e la scienza applicata e quindi un attimino insomma abbiamo una visione Dipende da come siete voi cioè se preferite le materie scientifiche trovarsi al classico significa soffrire E quindi però diciamo che la per la mole di studio sono entrambi due licei molto difficili Diciamo che in uno dovete più fare esercizio perché avrete matematica, chimica, fisica, tutte quelle materie lì Mentre al liceo classico devi studiare, 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 studiare Fare un sacco di versioni di grammatica Poi in realtà vanno bene tutti e due per qualsiasi università vogliate fare in futuro Quindi fate quello che vi può ispirare di più e le cui cinque anni di studio le materie vi possono piacere E non vi facciano schifo perché poi studiare per cinque anni Oh Auri siamo già arrivati all'ultimo pezzo dell'albero Sì Però questa parte è la parte dell'albero che non c'è Non mi piace perché non ci arrivo e quindi facciamo sempre super fatica Quest'anno mettiamo il fiocco o mettiamo la stella? Ma il fiocco è rosso quindi no Ok allora mettiamo la stella Sì abbiamo qualcosa E' una monoricosa di preciso Ma l'anno scorso avevamo fatto l'albero prestissimo L'avevamo fatto a novembre Esatto perché avevamo avuto l'occasione Quest'anno non c'è stata l'occasione Questa non c'è stata l'occasione Quindi abbiamo partecipato all'8 di dicembre come metà italiani Perché mi sa che tutti fanno l'albero l'8 di dicembre Fateci sapere voi quando l'avete fatto Non è troppo alto e neanche troppo tutto Anche perché questo albero ha metà foglie sintetiche normali E metà invece che sembrano dei pini veri Ti fanno anche un po' male quando le apri Auri qui ci sono buchi Lo so che l'albero di Natale dietro non si vede Esatto Però, cioè facciamo un bacio bene, dai L'albero dietro non esiste Cioè ci va tutto quello che non deve stare su davanti Cioè metà palline che piacciono all'alice vanno dietro No, non è vero Non è vero Verissima Aia Ok Prossimo step sono le luci Che abbiamo testato perché Funzionano Esatto Sono fredde, belle, bianche Tutte dello stesso colore Sì perché Non tipo l'albero di Chiama Ferrani Che lo accende a 7000 Che ci sono diverse No, questa cosa a me è proprio mandata l'alberto Allora, la prossima domanda Auri Come fate a fare tutto? Cioè come fate a conciliare tutte le cose che fate durante la vostra giornata? Non lo sapevo neanche a me Allora, diciamo che bisogna organizzarsi Bisogna fare un planner a inzio settimana Plannificando tutta la propria settimana Avere sempre a portata di mano l'agenda A farsi delle tool list Cioè bisogna avere bene impresso Quello che bisogna fare in una determinata giornata Perché le giornate non sono da 47 ore Ma da 24 Di cui tra i quarti della nostra giornata La possiamo tradormire e fare scuola O andare all'università Quindi non ci rimane molto tempo Per fare cose che piacciono a noi Social Tutto il tempo libero che abbiamo Ne investiamo in YouTube Nel creare contenuti Perché comunque O nello studiare Circa Il studio non è considerato tempo libero Quindi organizzarsi a inzio settimana E non perdere tempo Perché se hai la tool list Di tutte le cose che devi fare Non ti viene voglia di guardare il telefono Perché dici Oh, ho un sacco di cose da fare E poi prendersi anche delle pause Ogni tanto Durante il proprio studio Per guardare i nostri video di YouTube Eccoci qui Il nostro alberello Con le lucette Allora diciamo che Sembra molto bello Auri, mi piace È stato un parto Perché erano lunghissime Ma adesso metteremo i festoni Rigorosamente bianchi Perché vuoi metterli Di un altro colore? No No Prossima domanda Avete mai pensato Di fare un calendario dell'avvento Con i prodotti di cancelleria? Sì Però volevamo aspettare comunque Ad avere più prodotti sul sito Da poter mettere anche poi In calendario dell'avvento Quindi magari l'anno prossimo Magari con delle collaborazioni anche Auri come lo facciamo? Diciamo metterlo dove ci sono Dal basso verso l'alto Dei buchi Ci sono le lucine Dai, ricorda la seria Ok Un'altra domanda ci chiede Come state? Siete stressate? Sì, tantissimo Un pochino Io sinceramente no Però so già che Ci sto andando incontro In un periodo molto duro Quindi mi sto rilassando Per il futuro Ah, per me non ci passo un po' però Ok Sì, beh tipo nero è bellissimo Sì, ma ti puro filato Ah, qui per me lasciare l'albero così Aspetta, poi ne abbiamo un altro E basta Cerca di essere morbida 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 E voi di che colore fate l'albero? Perché non io il bianco Bianco-argento Io il zalo No, Alice Io il zalo L'albero deve rispettare i colori Che circondano l'albero O i colori armo cromatici Non puoi fare l'albero verde C'è, rostro di oro Perché no, cioè non è bello Poi Rifariste il liceo classico se tornaste indietro Sì, per l'altro paio della mia vita Sì, io sì, lo rifarei Mi piace, mi trovo bene Sì, soprattutto io avrei fatto direttamente il triennio e basta Ok, l'abbiamo sistemato io Adesso iniziamo alle palline Ovviamente rigorosamente A giunto bianco Allora, iniziamo con le prime palline argentate Mi ricordo che l'anno scorso, due anni fa Abbiamo dovuto legare tutti i corgini Sì, insieme appunto anche a Giorgio Mi ricordo che è stato molto La prossima domanda Che cosa ti piacerebbe ricevere per Natale? Allora, noi abbiamo già fatto la letterina per Santa Lucia Che qui a Verona Arrivai il 13 di dicembre Sì, quindi non arriva qualcuno qua Non si può dire Non si sbaglia la lunga Però sono una letterina molto intellettuale la mia E poi, in generale Mi piacerebbe ricevere un po' di libri Per dar sfogo alla mia passione per la lettura Perché abbiamo il tempo libero Esatto Ma però durante le vacanze di Natale Un po' di tempo libero lo si trova, per forza Di notte Esatto La Nintendo Switch Abbiamo fatto anche un video dedicato alle idee regalo Che potete fare per i vostri amici O per voi stessi Io ho preso spunto la vostra idea per un regalo di una minuta Stiamo applicando le palline più basic Cioè quelle grigie Guarda che bella questa No, quella la metto io dopo La mettiamo prima le palline basic, avrei La prossima domanda Cosa fate nel tempo libero? Non abbiamo tempo libero Non abbiamo tempo libero essenzialmente Perché il nostro tempo libero Ediamo, registriamo Andiamo a fare i nostri sport Cioè io faccio l'anza, Laura non fa nulla Leggiamo Guardiamo un po' di social E non basta Stiamo un po' con la nostra famiglia Cosa è semplice, basilari Allora Potremmo investire di più in qualche viaggetto Adesso proviamo a mettere le palline Quelle un po' più special Che a Laura non piacciono per niente E sono questo bellissimo Genzi Cioè secondo me è meraviglioso E la ballerina che non si può non mettere Allora la ballerina la vogliamo prima piano La ballerina l'accetto anche perché è bianca E argento Devevo comprare sempre di schiaccianoci Ok dai la ballerina qui ci piace Allora la prossima domanda Come essere sicuri Eccola Ah finalmente Come essere sicuri della scelta del liceo Allora Andate tanti open day delle scuole Fate una lista dei prove e contro Se avete indecisione tra due scuole E poi magari se vi scrivete in una scuola E capite che non è la vostra Avere il coraggio di cambiare Cioè di ammettere di aver sbagliato Di dire ok Pensavo fosse giusta per me In realtà non lo è Non importa E cominciare a capo Esatto in una nuova scuola Sicuramente non è semplice Però si può fare No abbiamo messo le palline più significative E se ne sono alcune Pensate di meno in realtà Per gioia dell'aurora Invece sono più di quante ne pensavo Adesso manca qualcuno Che ci metta la stella Esatto Papà 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 ci ha messo la stella Guardate che carina Ci sta proprio proprio bene Adesso in realtà abbiamo tutte le altre decorazioni Da mettere per la sala Ma non le metteremo Sì che le mettiamo Vabbè Ma quella qualcosa è rosso Non ci sta Ma certo che ci sta Natale è rosso Natale è rosso Auri Allora le domande a cui abbiamo scelto Di rispondere erano 10 Ci sono terminate Ma se viene la taba E il mio Oh no Quella campanella è bellissima Ma la mettiamo la Tadam Ecco abbiamo terminato Anche di adobare la sala Abbiamo messo L'avabo natale Un po' di decorazioni Sul Non uno Ma ben due Uno di Toon E uno tipo Della Fisher Price Voto 10 Allora vi lasciamo All'altro video Al prossimo Vlogmas I video del mio qui Vediamo tanto che vi sia piaciuto Noi ci siamo divertite davvero Tantissimissimo A decorare il nostro alberello A ripristinare Quell'atmosfera natalizia Quel color code Che ci sta bene Con la sala Oh my god Mi ha delle meraviglie Vi ricordiamo Di iscrivervi alla newsletter Del nostro sito www.lauretciane.it Perché raga Se riuscite a fare gli ordini Entro questi giorni Magari riescono ad arrivare Entro Natale Affrettatevi Mi raccomando Perché ci sono un sacco Di prodotti Mi muovi a tema natalizio Appunto questo Natale Sarà firmato Alle Auri In questi vlogmas Non saluteremo nessuno Ma ricominceremo a salutare Dopo Natale Ci vediamo domani Con il prossimo video Ciao